Salve a tutti e ben ritrovati sul nostro canale Oggi vedremo in questo video tutorial come trasformare un avvitatore a batteria in un avvitatore elettrico questo perché in questo caso la batteria si è guastata e quindi non ha più durata per comprare un pacco batterie del genere ci vogliono circa 30 euro anche quando vorremmo costruire e quindi andare a sostituire le batterie che sono 10 in questo caso perché ha 12 volts ci costerà circa 20-25 euro se riteniamo opportuno che questo avvitatore non viene usato spesso e quindi non ne vale la pena andare a spendere dalle 20 alle 30 euro come detto poco fa possiamo trasformarlo in un avvitatore elettrico con l'ausilio di un vecchio trasformatore da PC desktop e così avremo solamente l'ingombro di avere non più la batteria ma di avere un filo che collegherà il nostro alimentatore al nostro pacco batterie e vediamo come fare allora prendiamo per l'appunto un alimentatore vecchio da un 400 watt quello che a noi ci interessa è la tensione sui 12 volt e abbiamo in questo caso qui 15 ampere quindi andiamo a prendere il connettore principale faremo da prima una prova per poter fare partire questi vecchi alimentatori bisogna praticamente ponticellare in questo caso il filo grigio con il cavetto nero in maniera tale che lui all'avvio e quindi all'alimentazione del trasformatore si alimenterà e partirà in alcuni casi questo filo grigio non è grigio ma è viola quello che è importante è dover andare a contare il connettore quindi è 1, 2, 3 e il quarto connettore partendo da destra verso sinistra con il negativo andremo a fare per l'appunto un ponticello con un cavetto tipo questo quindi andremo a ponticellare il cavetto in questo caso grigio quindi il quarto con il nero che è il terzo andiamo a mettere magari un po' di nastro in modo tale da tenerlo fermo e poi andiamo a prendere in un spinotto qualsiasi il cavo giallo e il cavo nero il nostro cavo giallo sarà l'alimentazione a 12 volt il nostro cavo nero sarà la nostra GND e quindi il nostro negativo andiamo a collagare due fili in questo modo per fare così una prova aprendo il pacco batterie andiamo a togliere quelle che sono le batterie già ne ho tolte le prime due che contengono i contatti andiamo a togliere quelle che sono tutti i fermi e le molle così il pacco batterie diventerà anche più leggero e andiamo solamente a lasciare queste rimettiamo le molle questo ci servirà come batteria diciamo finta e poi lasceremo solamente questi ovviamente tagliamo i fili che c'erano collegati prima da questo lato avremo il negativo e da questo lato avremo il positivo così facendo possiamo reinserire quella che è la scocca originale quindi in questo caso così così avremo la lamella positiva e la lamella negativa ovviamente al pacco batterie ora faremo un buco qui dove poi passerà il nostro cavo diamo alimentazione al trasformatore attacchiamo il cavo di alimentazione in questo alimentatore abbiamo anche un pulsante e quindi lo mettiamo su uno verifichiamo che ci sia il ponticello il nostro alimentatore è partito allora prendiamo il nostro finto pacco batterie lo inseriamo per il momento così volante facciamo una prova vedete e ha anche abbastanza forte questo poi dipende dal tipo di avvitatore e quindi dal tipo di assorbimento che ha il motorino in questo caso noi avremo su questo alimentatore switching sulla 12 volt avremo 15 ampere che sono diciamo sufficienti riesce anche a far scattare la frizione stessa dell'avvitatore quindi non ci resta che poi creare il nostro finto pacco batterie ora vediamo ora lo faremo quindi tramite il saldo d'oro ho fatto questo invito per il cavo dove faremo passare i fili quindi questo è il nostro finto pacco batterie l'unico inconveniente è che avremo questo filo che magari prima non c'era rimettiamo le viti questo è il nostro finto pacco batterie che sarà anche più leggero quindi inseriamo il nostro avvitatore e proviamo che funziona quindi per oggi è tutto come al solito se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like iscrivetevi al nostro canale e condividete questo video ci vediamo al prossimo tutorial ciao 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 ciao